Teleradio Stereo 92.7 È arrivata una deviazione magica E la palla è terminata in porta Credo un autorete E l'autogol Attenzione a Paolo Di Bala che avanza sul centrodestra Si propone Carzor per cercare lo scambio con Lukaku Di Bala, Cristante dietro per Lukaku Lukaku, Lukaku, Lukaku Nooooooooooooooooooo E quando giocano i fenomeni Di Bala, Lukaku e la palla va dentro Che attaccante Che centravanti La Roma torna in vantaggio sul campo dello Sheriff Romelu, Lukaku Azione di sfondamento condotta da Di Bala Poi la bellissima giocata di Cristante Bravissimo Cristante Per Lukaku che con grandissima qualità Confeziona la rete del 2-1 Lancio di Covalla Disperatamente in avanti Ma non c'è più tempo La Roma inizia bene La Roma inizia bene il suo girone di Europa League Vince 2-1 contro lo Sheriff Tiraspore Una partita anche rognosa, combattuta Alla fine però vinta Grazie al Goldion Grandissimo attaccante Teleradio Stereo 92.7